Daveri, ha ragione Barbera, c'è questa indiscrizione l'ultima ora che ripetiamolo, poi magari saremo smentiti tra un'ora in conferenza stampa da Renzi con le slide, quindi sarà tutto scritto sull'acqua, però dimostrano insomma che, insomma il Renzi che dice le coperture ci sono sempre state, tre settimane che sappiamo dove prendere i soldi, insomma esagerava un po' quantomeno possiamo dire. Ma effettivamente la sensazione che le coperture ci fossero sempre state non era una sensazione molto diffusa, anzi la sensazione diffusa semmai era un po' differente, cioè che probabilmente il governo sperava di poter usare il risparmio, il pagamento degli interessi sul debito pubblico derivante dalla discesa dello spread come modo per finanziare la riduzione di imposti. E anche un po' di deficit daveri. E magari anche uno 0,2 di deficit in più per cui comunque c'è spazio anche se al momento non viene contabilizzato, almeno si riconosce che il deficit presumibile sarà 2,6 anziché 2,5 con una riduzione della crescita attesa del PIL per il 2014 che è 0,8 e che è inferiore a quella suggerita dal Fondo Monetario Internazionale. Quindi insomma indubbiamente stiamo a vedere, certo questo è una delle possibilità, insomma indubbiamente ricorrere alle banche come stagno ulteriore vuol dire aumentare le tasse su una componente che non consuma. Ecco, e probabilmente si ritiene di non peggiorare troppo i bilanci delle banche che sono in via di pulizia. Daveri si dice che non tutti ma una buona parte, l'ha ricordato il ministro del Rio ancora ieri sera, arriveranno dai tagli di spesa. Siccome appunto Tremonti ha detto se tagliano 5 miliardi non è niente, però insomma ricordiamo che il governo precedente aveva detto 0 nel 2014 di taglio di spesa come effetti. Non è che poi alla fine si andrà a terminare con tagli lineari, cioè si toglie un miliardo qua, mezzo miliardo là, si risparmia un po' su tutto in questo o quel settore. Siamo proprio sicuri che non succeda? Non siamo sicuri di niente, però è certo che questa volta c'è il lavoro fatto dal commissario Cottarelli che ha portato a una lista che forse non è piaciuta del tutto al primo ministro di aree su cui si può intervenire e che non sono state individuate dicendo togliamo 3% a tutti o 5% a tutti, ma da un'analisi che dovrebbe assomigliare il più possibile a un tipo di analisi il più possibile manageriale, ovvero sia si vede dove la spesa non serve e si taglia di più magari dove non serve anziché guardando allo storico. Quindi queste sono le considerazioni che sono state fatte. È auspicabile che tutto ciò venga recepito dal governo e che quindi si dia seguito alle indicazioni del commissario Cottarelli almeno dal punto di vista della metodologia. Barbera, quanto vedremo presumibilmente stasera nel dettaglio le cose di cui stiamo parlando? Perché non è mica obbligatorio. Il DEF appunto è sul PIL di quest'anno. Daveri altra ultima ora, battuta dall'ANSA, anche qui siamo su cose che erano già uscite come indiscrezioni. Quest'anno previsti 10-12 miliardi, anzi 12 miliardi quest'anno nel 2014, dalle privatizzazioni. Anche qui, visto che anche questa è una partita che bisogna fare con grande serietà, impegno, perché abbiamo visto che spesso non sono poi rispettati i tempi che si annunciano. Quello che ha visto finora anche da questo versante la induce a un ottimismo? Ma è difficile aspettarsi da una manovra che deve più o meno garantire un pareggio di bilancio, perché questo è il mantra che viene ripetuto. È difficile aspettarsi un effetto espansivo sull'economia, quindi questo è una cosa che va detta. Nel senso che il più 0,3 è il combinato disposto del taglio sull'IRPEF e dell'ulteriore rimborso dei debiti della pubblica amministrazione, che sono le due principali fonti di denaro fresco, più la riduzione dell'IRAP, che però probabilmente è più difficile che si materializzi in un ulteriore impulso a consumi o investimenti, ma invece potrebbe portare magari a qualche assunzione in più da parte delle imprese. Dall'altro lato però cominciamo ad avere una lista di tasse, di cose che devono finanziare, quindi l'IVA disgenerata dai pagamenti della pubblica amministrazione, questo gravio sulle banche che però appunto non dovrebbe spiazzare i consumi. D'altronde questo è quello che si deve provare a fare perché se non si rilanciano i consumi non ripartono gli investimenti e se non ripartono gli investimenti è chiaro che poi il fondo monetario si lamenta della crescita potenziale dell'Italia. Quindi l'ordine logico penso che sia quello giusto, partire dal rilancio dei consumi per poi avere una ripresa degli investimenti che dovrebbe tra l'altro servire anche a rinforzare la dinamica delle esportazioni e per poi migliorare la crescita potenziale nel futuro. Quindi questo può essere la strada da seguire. Quanto si riesca a realizzare già nel corso del 2014 rimane indubbiamente da vedere.